Ci sono stati dei passi avanti importanti, in particolare nell'ultimo anno e mezzo, grazie anche ai fondi della legge di stabilità per il 2015, che sono stati però stavolta ben utilizzati. Si comincia a vedere rinascere l'Aquila, rinascere i comuni del cratere. Così il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, che ha ieri preso parte alla terza e ultima giornata di Officina L'Aquila, incontri internazionali. Il ciclo di dibattiti e conferenze dedicate alla ricostruzione organizzata da Ancia, Abruzza e Carsa, all'auditorio del Parco del Castello dell'Aquila. Al centro il tema di una ricostruzione che non solo è entrata a pieno regime con centinaia di cantieri all'opera e anche conclusi, ma anche la possibilità di esportare nel mondo, come buona pratica, una ricostruzione che unisce il restauro di edifici storici e di pregio con avanzate tecnologie di messa in sicurezza sismica e di miglioramento energetico. Un incitamento a questo ambizioso obiettivo è arrivato proprio dal sottosegretario, che ha lodato la competenza, la passione e il gusto del fare di tanti giovani impegnati ad esempio negli uffici speciali della ricostruzione. Poi allargando lo sguardo, De Vincente ha parlato del Master Plan per il Sud, che porterà investimenti in Abruzzo per 1,5 miliardi di euro. Soldi veri, assicura Maura Monisce, regioni e comuni devono fare la loro parte. In parte sono i fondi strutturali europei, in parte sono i fondi che il Parlamento italiano ha stanziato apposta attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione per sostenere lo sviluppo delle politiche di coesione e quindi in gran parte verso il mezzogiorno. Il punto chiave è che attraverso il Master Plan dei Patti questi fondi ora sono finalmente finalizzati, interventi concreti che nascono dalle esigenze dei territori, priorità che vengono definiti dalle comunità locali e poi, come dire, una responsabilità reciproca. Il Governo sostiene con questi fondi, ma anche con gli strumenti amministrativi, l'azione delle regioni, delle città metropolitane, dei comuni e chiede altrettanto responsabilità da parte delle amministrazioni regionali e locali per utilizzare bene questi fondi.